Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, eccomi qui con il grandissimo Nicolo Gentili che è una sorpresa per il web Vi saluto, è un onore di essere qui con Cristian che noi abbiamo lavorato insieme tempo fa Grande spot con Daniele e Luca alla regia Adesso ci siamo rivisti, ci siamo ritrovati, qui a festa, ci siamo molto contenti Vi saluto, rimando un abbraccio Ecco, salutiamo tutti i social, Youtube, Facebook e Twitter Ce n'è qui Instagram, ce n'è 2000, Youtube, vi saluto tutti Mi raccomando, continuate a seguire Cristian come un amico e la pranzia Non mi date letta, grazie, troppo buono, ciao a tutti Ciao Salutatore, grandissima, Nicolo Saluto per i fans, tuoi? Ragazzi, mi raccomando, continuate a seguire, mi raccomando, fine novembre, matrimoni e altre fornire Ah, scoop Grazie, ciao